Nella provincia bergamasca il 3,1% degli ultra 65 anni si trova in difficoltà economica e non è autosufficiente rispetto all'1,5% della media nazionale, un dato preoccupante che fa riferimento soprattutto a donne che non riescono ad arrivare a fine mese. I 21 comuni della provincia aerobica coinvolti nelle iniziative messe in campo da CISL ed FNP pensionati hanno assicurato che per quest'anno i fondi dedicati al sociale non verranno toccati. Ma la situazione resta critica e fra gli anziani c'è sgomento e preoccupazione. Noi continuiamo a insistere che sia a livello nazionale fra la legge quadro sia a livello regionale che ci sia questo fondo per autosufficienza. Per far fronte alla priorità e ai bisogni degli anziani, alle loro aspettative e dare risposta alle loro fragilità, Anteas, associazione di volontariato attiva da 15 anni che conta 410 soci, si occupa delle attività riconducibili ai servizi alla persona in accordo con comuni e provincia, fra i servizi offerti i trasporti, l'accompagnamento e l'assistenza, ma anche incontri di formazione. I corsi culturali di Università Anteas, rivolti prevalentemente agli anziani ma non solo, attraverso i quali con tematiche che di volta in volta vengono scelte, si tende a fornire un elemento importante di cultura e anche perché no di aggiornamento. I frequentanti sono ormai nell'ordine dei 2.100 all'anno.